15. Roland Kroninger era rannicchiato sul pavimento distrutto nella rovina di quella che era stata la caffetteria di Earth House, e in mezzo ai pianti e alle urla stava ascoltando una cupa voce interiore che diceva «un cavaliere del re, un cavaliere del re, un cavaliere del re, non piange mai». L'oscurità era totale, tranne per delle occasionali lingue di fiamma che saltavano su dove c'era stata la cucina, e quella luce intermittente illuminava rocce cadute, tavoli e sedie in frantumi, e corpi umani schiacciati. Qua e là qualcuno barcollava nella luce spettrale, come un sofferente nelle caverne dell'inferno, e dei corpi spezzati sobbalzavano sotto gli enormi massi che erano caduti attraverso il soffitto. All'inizio c'era stata una scossa che aveva fatto cadere la gente dalle sedie. Le luci principali si erano spente, ma si erano accese quelle d'emergenza, e Roland si era ritrovato a terra con i cereali della colazione che ricoprivano la parte frontale della sua maglietta. Sua madre e suo padre erano caduti vicino a lui, e c'erano forse altre quaranta persone che stavano facendo colazione nello stesso momento. Alcuni di essi stavano già gridando aiuto, ma la maggior parte manteneva un silenzio scioccato. Sua madre lo aveva guardato, con del succo d'arancia che le gocciolava dai capelli e dal volto, e aveva detto «L'anno prossimo andremo al mare». Roland si era messo a ridere, e anche suo padre stava ridendo. Poi iniziò a ridere anche sua madre, e per un momento furono tutti collegati da quella risata. Phil era riuscito a dire «Grazie a Dio non mi occupo io dell'assicurazione di questo posto, dovrei citare in giudizio il mio stesso». E poi fu azzittito da un ruggito mostruoso, e dal suono della roccia che si frantuma, e il pavimento si era sollevato e inclinato follemente, con tanta forza che Roland fu scagliato lontano dai suoi genitori, e andò a scontrarsi con altri corpi. Una grande porzione di rocce e piastrelle del soffitto era crollata, e qualcosa l'aveva colpito duramente in testa. Adesso, seduto con le ginocchia vicine al mento, sollevò la mano all'attaccatura dei capelli e toccò del sangue appiccicoso. Il suo labbro inferiore era spaccato, e anch'esso stava sanguinando, e sembrava che dentro fosse tutto ammaccato, come se il suo intero corpo fosse stato allungato, come un elastico, e poi lasciato andare di colpo. Non sapeva quanto era durato il terremoto, come fosse finito rannicchiato come un neonato, o dove erano i suoi genitori. Voleva piangere, e aveva le lacrime agli occhi, ma un cavaliere del re non piange mai, disse a se stesso. C'era scritto nel manuale del cavaliere del re, era una delle regole che aveva scritto per la condotta appropriata di un guerriero. Un cavaliere del re non piange mai. Si vendica e basta. C'era qualcosa nel suo pugno destro, e lui lo aprì. I suoi occhiali, con la lente sinistra spezzata e quella destra completamente mancante. Pensò di ricordare di averli tolti quando era sdraiato sotto il tavolo, per pulire il latte caduto sulle lenti. Li indossò e provò ad alzarsi. Ma gli ci volle un momento per coordinare le gambe. Quando si alzò, la sua testa batte contro un soffitto piegato, che si trovava ad almeno due metri e dieci d'altezza, prima che iniziassero le scosse. Adesso doveva chinarsi per evitare cavi, tubi e sbarre di rinforzo spezzate. «Mamma! Papà!» gridò, ma non sentì nessuna risposta tra le urla dei feriti. Roland avanzò a fatica tra le macerie, chiamando i suoi genitori, e calpestò qualcosa che c'è dette come una spugna bagnata. Abbassò lo sguardo su quello che avrebbe potuto essere un'enorme stella marina, schiacciata tra due lastre di roccia. Il corpo non assomigliava a nulla di remotamente umano, tranne per gli stracci di una maglietta insanguinata che indossava. Roland passò sopra ad altri corpi. Aveva visto dei cadaveri solo nelle foto delle riviste sui soldati mercenari, che comprava suo padre. Ma questi erano diversi. questi erano stati maltrattati al punto da non poter più riconoscere lineamenti o sesso, se non per gli stracci che restavano loro addosso. «Ma a nessuno di essi era sua madre o suo padre», decise Roland. «No, sua madre e suo padre erano vivi, da qualche parte». Sapeva che era così e continuò a cercare. L'attimo dopo si fermò appena in tempo prima di cadere in una voragine dentellata che aveva diviso in due la caffetteria e vi sbirciò dentro, senza vederne il fondo. «Mamma! Papà!» gridò verso l'altro lato della stanza. Ma di nuovo non ci fu risposta. Roland si fermò sul ciglio della voragine, con il corpo che tremava. Una parte di lui era ammutolita per il terrore, ma sembrava che un'altra, più profonda, si stesse rafforzando, emergendo in superficie e tremando non per la paura, ma per un'eccitazione pura e fredda che era oltre qualsiasi cosa avesse mai provato prima. Circondato dalla morte, lui percepì la vita pulsare nelle sue vene con una forza che lo faceva sentire in preda alle vertigini. E ubriaco. «Sono vivo», pensò. «Vivo». E di colpo, la rovina di Earth House sembrò incresparsi, e cambiare. Si trovava in mezzo a un campo di battaglia disseminato di morti. E nella distanza, un fuoco si alzava dalla fortezza del nemico, avvolta dalle fiamme. Portava uno scudo ammaccato e una spada insanguinata. E stava per entrare in shock, ma era ancora in piedi e ancora vivo dopo l'orocausto della battaglia. Aveva condotto in guerra una legione di cavalieri su questo campo di detriti, e adesso si trovava da solo perché era l'ultimo cavaliere del re rimasto. Uno dei guerrieri massacrati ai suoi piedi allungò una mano e gli afferrò la caviglia. «Per favore», disse la bocca insanguinata con voce rauca. «Per favore, aiutami». Roland sbatté le palpebre stupito. Stava guardando una donna di mezza età con la metà inferiore del corpo incastrata sotto una lastra di roccia. «Per favore, aiutami», implorava. «Le mie gambe, le mie gambe». «Una donna non deve trovarsi su un campo di battaglia», pensò Roland. «Oh no». Ma poi si guardò intorno e ricordò dove si trovava. Dirincolò la caviglia e si allontanò dall'orlo della voragine. Continuò a cercare, ma non riuscì a trovare suo padre o sua madre. Forse erano sepolti, si rese conto, o forse erano caduti in quella voragine, nell'oscurità al di sotto. Forse aveva visto i loro corpi, ma non era stato in grado di riconoscerli. «Mamma! Papà!», gridò. «Dove siete?». Nessuna risposta. Solo il suono di qualcuno che si inghiozzava e lamenti d'agonia. Una luce brillò attraverso il fumo e trovò il suo volto. «Tu!», disse qualcuno con un sospiro faticoso. «Come ti chiami?» «Roland», rispose. Qual è la sua cognome? Per qualche secondo non riuscì a ricordarlo. «Roland Kroninger». «Ho bisogno del tuo aiuto, Roland!», disse l'uomo con la torcia. «Sei... sei in grado di camminare?», Roland annuì. «Il colonnello Macklin è intrappolato al piano di sotto, nella sala di controllo. In quello che resta della sala di controllo», si corresse Teddy Berwarner. Era piegato come un gobbo. Si appoggiava su un pezzo di sbarra di rinforzo che usava come bastone per camminare. Alcuni dei passaggi erano stati completamente bloccati da frane, mentre altri si inclinavano ad angolazioni folli o erano spaccati da fessure enormi. Earth House era percorsa da urla e invocazioni a Dio. E alcuni dei muri erano macchiati di sangue, dove dei corpi erano stati colpiti a morte dalle onde d'urto. Aveva trovato solo mezza dozzina di civili capaci nella rovina. E di quelli, solo due, un vecchio e una ragazzina non erano pazzi furiosi. Ma il vecchio aveva un polso rotto da cui fuoriuscivano le ossa. E la bambina non voleva lasciare l'area in cui suo padre era scomparso. Così, Warner aveva proseguito verso la caffetteria, cercando qualcuno che l'aiutasse e supponendo anche che in cucina ci sarebbe stato un assortimento utile di colpelli. Ora Warner fece passare il raggio sul volto di Roland. La fronte del ragazzo aveva un taglio e nei suoi occhi era evidente lo shock. Ma sembrava aver evitato ferite importanti. Tranne per il sangue, il volto del ragazzo era pallido e impolverato. E la sua maglietta di cotone blu scuro era strappata e mostrava altri tagli sul suo torace pallido e ussuto. «Non è granché», pensò Warner, «ma dovrà andare bene». «Dove sono i tuoi?» chiese Warner e Roland scosse la testa. «Va bene, ascoltami. Siamo stati attaccati con bombe nucleari. L'intero fottuto paese è stato bombardato. Non so quanti siano morti qua dentro, ma noi siamo vivi, e così il colonnello Macklin. Ma per restare vivi dobbiamo rimettere ordine nelle cose per quanto possiamo, e dobbiamo aiutare il colonnello. Capisci quello che ti sto dicendo?» «Credo di sì», rispose Roland. «Bombe nucleari», pensò. «Bombardati, bombardati, bombardati». La sua mente vacillò. «Tra qualche minuto, pensò, mi sveglierò nel mio letto, in Arizona. Va bene. Adesso voglio che resti con me, Roland. Torniamo in cucina e troviamo qualcosa di affilato, un coltello da macellaio, una mannaia, qualsiasi cosa. Poi torniamo alla sala di controllo». «Se riesco a ritrovare la strada», pensò Warner, ma non osò dirlo. «Mia mamma e mio papà», disse Roland debolmente. «Loro sono da qualche parte?» «Non andranno da nessuna parte, Roland. In questo momento il colonnello Macklin ha bisogno di te e più di loro. Capito?» Roland annui. «Cavaliere del re», pensò. Il re era intrappolato in un sotterraneo e aveva bisogno del suo aiuto. I suoi genitori erano spariti, spazzati via nel cataclisma, e la fortezza del re era stata bombardata con bombe nucleari. «Ma io sono vivo», pensò Roland. «Io sono vivo e sono un cavaliere del re», strinse gli occhi e guardò nel raggio della torcia. «Sarò un soldato?» chiese all'uomo. «Certo, adesso restami vicino, dovremmo trovare un modo per arrivare alla cucina». Warner doveva muoversi lentamente, caricando tutto il suo peso sulla sbarra di ferro. Riuscirono ad arrivare in cucina, dove ancora piccoli incendi bruciavano voracemente. Warner si rese conto che quelli che bruciavano erano resti della dispensa, dozzine di barattoli erano esplosi, e la polpa bruciata aderiva alle pareti. Era sparito tutto. Latte in polvere, uova, bacon e prosciutto, tutto. Ma Warner sapeva che c'era ancora la stanza con le razioni di cibo d'emergenza, e le sue viscere si contrassero, al pensiero che sarebbero potuti rimanere intrappolati là sotto, al buio, senza cibo o acqua. Gli utensili erano sparsi ovunque, catapultati fuori dalla dispensa della cucina dalle scosse. Warner scoprì una mannaia con la punta del suo bastone di fortuna. La lama era seghettata. «Prendi quella», disse al ragazzo, e Roland la raccolse. Lasciarono la cucina e la caffetteria, e Warner condusse Roland alle rovine della piazza. Lastre di rocce erano cadute dall'alto, e l'intera area era inclinata e percorsa da profonde crepe. Il cinema stava ancora bruciando, e l'aria era densa per il fumo. «Qui», disse l'uomo, indicando l'infermeria con la sua torcia. Entrarono, e trovarono la maggior parte dell'equipaggiamento rotto e inutile, ma Warner continuò a cercare fino a quando non trovò una scatola di lacci emostatici e una bottiglia di plastica di alcol disinfettante. Disse a Roland di prendere uno dei lacci e la bottiglia, e poi frugò nell'armadietto delle medicine in frantumi. Pillole e capsule scricchiolavano come popcorn sotto i suoi piedi. La luce di Warner cadde sul corpo morto di una delle infermiere, schiacciata da un pezzo di roccia grande quanto un incudine. Non c'era segno alcuno del dottor Lang, il medico interno di Earth House. Il bastone di Warner scoprì delle fiale integre di Demerol e Percodan, che chiese a Roland di raccogliere. Warner se le ficcò in tasca per riportarle al colonnello. «Sei ancora con me?» chiese il ragazzo. «Sì, signore». «Mi sveglierò tra qualche minuto», pensò Roland. «Sarà un sabato mattina e scenderò dal letto e accenderò il computer». «Abbiamo molta strada da fare», gli disse Warner. «Per un fatto dovremo strisciare. Ma resta con me, capito?» Roland lo seguì fuori dall'infermeria. Voleva tornare indietro a cercare i suoi genitori, ma sapeva che il re aveva più bisogno di lui. Era un cavaliere del re e il fatto che a re occorresse il suo aiuto era un onore. Di nuovo una parte di lui si ritrasse dall'orrore e dalla distruzione che c'era intorno a lui e gridò «Svegliati, svegliati!» con la voce frignante di uno scolaretto ansioso. Ma l'altra parte, quella che stava diventando più forte, guardò i corpi esposti alla luce della torcia e sapeva che i deboli dovevano morire perché i forti potessero vivere. Si addentrarono nei corridoi, scavalcando cadaveri e ignorando le grida dei feriti. Roland non sapeva quanto ci avevano messo per raggiungere la sala di controllo devastata. Guardò il suo orologio alla luce di un mucchio di macerie in fiamme, ma il vetro si era rotto e l'orologio si era fermato alle dieci e trentasei. Warner strisciò fino all'orlo del pozzo e diresse la sua torcia in basso. «Colonnello!» chiamò. «Ho portato aiuto! La tireremo fuori da lì!» Tre metri più in basso, Macklin si mosse e girò il volto sudato verso la luce. «Presto!» disse con voce roca e poi richiuse gli occhi. Roland strisciò fino al bordo del pozzo. Vide due corpi in basso, uno sull'altro, incastrati nello spazio di una bara. Il corpo al di sotto stava respirando e la sua mano scompariva in una fessura nel muro. All'improvviso, Roland capì a cosa servisse la mannaia. Guardò l'arma e riuscì a vedere il suo volto riflesso dalla lama nella scarsa luce, solo che era un volto distorto e non quello che ricordava. Gli occhi erano selvaggi e luccicanti e il sangue si era incrostato a forma di stella sulla sua fronte. Tutta la faccia era chiazzata di lividi ed era gonfia come quella di un rospo e il suo aspetto era anche peggio di quel giorno in cui Mike Armbruster lo aveva preso a calci perché non lo aveva lasciato copiare dal suo compito durante una verifica di chimica. «Piccolo strambo! Piccolo strambo quattro occhi!» lo aveva insultato Armbruster e tutti quelli che li circondavano avevano riso ed esultato mentre Roland tentava di fuggire venendo però sbattuto a terra ancora e ancora. Roland aveva iniziato a piangere rannicchiato per terra e Armbruster si era chinato e gli aveva sputato in faccia. «Sai come legare un laccio emostatico?» gli chiese il gobbo con la benda sull'occhio. Roland scosse la testa. «Ti guiderò io quando sarai laggiù!» Fece girare la luce della sua torcia e vide diverse cose che avrebbero alimentato un buon fuoco ardente. I pezzi di una scrivania, le sedie, i vestiti dei cadaveri. Potevano accenderlo con le macerie in fiamme che avevano superato nel corridoio e Warner aveva ancora in tasca il suo accendino. «Sai quello che si deve fare?» «Io credo di sì», rispose Roland. «Va bene, adesso stai attento. Gli legherai quel laccio intorno al braccio e poi ti passerò l'alcol. Spruzzaglielo su tutto il polso. Lui sarà pronto quando lo sarai tu. Probabilmente il suo polso è frantumato, quindi non sarà troppo duro a attraversare le ossa con la mannaia. Adesso ascoltami, Roland. Non voglio che tu stia lì a colpirlo per cinque fottute minuti. Fallo con forza, rapidamente e concludi. E una volta che inizi non pensare nemmeno di fermarti prima che sia finita, mi hai capito?» «Sì, signore», rispose Roland e pensò «svegliati, devo svegliarmi. Se avrai legato bene il laccio avrai tempo di chiudere la ferita prima che inizi a sanguinare. Avrai qualcosa con cui bruciare il moncherino e assicurati di bruciarlo, mi senti? Se non lo farai, lui si dissanguerà. Visto come è incastrato laggiù non ti si opporrà molto e comunque lui sa quello che va fatto. «Guardami, Roland!» Roland guardò nella luce. «Se farai quello che devi, il colonnello Macklin vivrà. Se fai un casino, lui muore. La verità pura e semplice». Tutto chiaro? Roland annui. Aveva la testa confusa, ma il suo cuore batteva forte. «Il re è intrappolato», pensò. «E di tutti i cavalieri del re io sono l'unico che può liberarlo». «Ma no, no, quello non era un gioco, quella era la vita vera e sua madre e suo padre giacevano da qualche parte a livello di sopra. Erzhaus era stata bombardata con bombe nucleari. Tutto il mondo lo era stato, tutto era distrutto». Si portò la mano alla fronte insanguinata e premette affinché i brutti pensieri non furono spariti. «Cavaliere del re. Mi chiamo Sir Roland». Adesso era in procinto di scendere nelle segrete più profonde e buie per salvare il re armato di fuoco e acciaio. Teddy Bear Warner si allontanò strisciando per accendere un fuoco e Roland lo seguì come un automa. Amocchiarono i pezzi della scrivania, le sedie e i vestiti dei cadaveri in un angolo e usarono alcuni pezzi di cavi in fiamme presi nel corridoio per accendere il fuoco. Teddy Bear, muovendosi piano e con dolore, dimise sopra le piastrelle del soffitto e aggiunse dell'alcol alle fiamme. All'inizio c'era solo un mucchio di fumo, ma poi il bagliore rosso iniziò a diventare più intenso. Il caporale Prados era ancora seduto contro il muro sul lato opposto e gli osservava lavorare. Il suo volto era madido di sudore e continuava a blatterare febbrilmente, ma Warner non gli prestava attenzione. Adesso i pezzi delle scrivanie e le sedie si stavano carbonizzando e il fumo acre si alzava dentro i fori e le fessure nel soffitto. Warner zoppicò fino al bordo del fuoco e sollevò la gamba di una delle sedie rotte, l'altra estremità stava bruciando intensamente e il legno da nero era divenuto grigio cenere. Lo infilò di nuovo nel fuoco e si voltò verso Roland. «Ok», disse, «diamosi da fare». Anche se strinse i denti per la pressione che gli devastava la schiena, Warner afferrò la mano di Roland e lo aiutò a calarsi nel pozzo. Il ragazzo calpestò il cadavere. Warner tenne la luce sul braccio intrappolato di Macklin e diresse Roland nell'operazione di legare il laccio emostatico al polso del colonnello. Il ragazzo dovette sdraiarsi in una posizione contorta sul cadavere per raggiungere il braccio ferito e vide che il polso di Macklin era diventato nero. Il colonnello si spostò di colpo e tentò di guardare in alto, ma non riuscì a sollevare la testa. «Più stretto», fu in grado di dire. «Stringi dei nodi in quel bastardo». A Roland servirono quattro tentativi per stringerlo abbastanza. Warner gli lanciò la bottiglia dell'alcol e Roland bagnò il polso annerito. Macklin prese la bottiglia con la mano libera e finalmente giro la testa in alto per guardarlo. «Come ti chiami?» «Roland Croninger, signore». Dal peso e dalla voce Macklin dedusse che era un ragazzo, ma non riuscì a vederne chiaramente il volto. Qualcosa scintillò e piegò la testa per guardare la mannaia in mano al ragazzo. «Roland», disse, «tu e io ci conosceremo molto bene nei prossimi minuti». «Teddy! Dov'è il fuoco?» La luce di Warner scomparve per un minuto e Roland restò da solo al buio con il colonnello. «Giornataccia», disse Macklin. «Non ho mai visto nulla di peggio. Tu?» «No, signore». La voce di Roland tremava. La luce tornò. Warner stava tenendo la gamba della sedia in fiamme come una torcia. «Eccolo, colonnello! Roland, sto per lanciartela! Pronto?» Roland afferrò la torcia e si chinò di nuovo sul colonnello Macklin. Quest'ultimo, con gli occhi annebbiati dal dolore, vide il volto del ragazzo nella luce sfarfallante e pensò di averlo già visto da qualche parte. «Dove sono i tuoi genitori, figliolo?» chiese. «Non lo so. Li ho persi». Macklin guardò l'estremità ardente della gamba della sedia e pregò che fosse sufficiente per lo scopo. «Te la caverai», disse. «Me ne accerterò personalmente». Il suo sguardo si allontanò dalla torcia e si fissò sulla lama della mannaia. Il ragazzo si accovaciò in una posizione strana sopra di lui, mettendosi a cavalcioni sul cadavere e fissò il polso di Macklin nel punto in cui si univa alla parete della roccia. «Bene», disse Macklin. «È ora». «Ok, Roland. Facciamolo prima che uno dei due si caghi sotto. Proverò a resistere più che potrò. Sei pronto?» «È pronto!», disse Teddy Bear Warner dall'orlo del pozzo. Macklin fece un sorriso tetro e una goccia di sudore gli scese dal dorso del naso. «Fa che il primo colpo sia decisivo, Roland!», lo incitò. Roland strinse la torcia nella sinistra e sollevò la destra che stringeva la mannaia alta sopra la testa. Sapeva esattamente dove avrebbe colpito, proprio dove la pelle annerita era inghiottita dalla fessura. «Fallo!», disse a se stesso. «Fallo adesso!», sentì Macklin fare un respiro brusco. La mano di Roland strinse la mannaia e la tenne allo zenith sopra la sua testa. «Fallo adesso!», sentì il braccio irrigidirsi come una sbarra di ferro. «Fallo adesso!», trattenne il respiro e calò la mannaia con tutte le sue forze sul polso del colonnello Macklin. L'osso scricchiolò. Macklin diede uno strattone, ma non emise nemmeno un suono. Roland pensava che la lama fosse passata da parte a parte, ma vide con shock rinnovato che aveva penetrato lo spesso polso dell'uomo solo per un paio di centimetri. «Finisci!», gridò Warner. Roland estrasse la mannaia. Gli occhi di Macklin, cerchiati di viola, si chiusero tremando e poi si riaprirono di scatto. «Finisci!», sussurrò. Roland sollevò il braccio e colpì di nuovo. Di nuovo il polso non si staccò. Roland colpì una terza volta e una quarta, sempre più forte. Sentì il gobbo con un occhio solo gridargli di sbrigarsi, ma Macklin restava in silenzio. Roland liberò la mannaia e colpì una quinta volta. C'era molto sangue adesso, ma i tendini resistevano ancora. Il ragazzo iniziò a segare, muovendo la mannaia avanti e indietro. Il volto di Macklin era diventato di un colore giallastro pallido e le labbra erano grigie come terra di cimitero. Doveva finire prima che il sangue iniziasse a schizzare fuori come da una pompa. Se fosse accaduto quello, Roland lo sapeva, il re sarebbe morto. Sollevò la mannaia sopra la testa, con la spalla che gli doleva per lo sforzo. Ed un tratto non era più una mannaia. Era un'ascia sacra. E lui era Sir Roland del Reame, convocato per liberare il re intrappolato nella sua segreta soffocante. Lui era l'unico in tutto il Reame che poteva farlo. E questo era il suo momento. La potenza del giusto pulsò in lui. E quando calò l'ascia sacra, sentì se stesso gridare con voce rauca e quasi inumana. Il resto dell'osso si spezzò. I tendini si separarono sotto la forza dell'ascia sacra. E poi il re iniziò a tremare. E una grottesca cosa sanguinante con la superficie simile a una spugna fu scagliata in faccia a Roland. Il sangue schizzò sulle sue guance e sulla fronte, accecandolo quasi. «Brucialo!» gridò Warner. Roland appoggiò la torcia sulla cosa spugnosa sanguinante. Questa si allontanò da lui di scatto. Ma lui la ferrò e la tenne, mentre Meklin strattonava selvaggiamente. Premette la torcia sulla ferita dove c'era stata la mano del colonnello. Guardò bruciare il moncherino con una trazione terribile. Vide la ferita annerirsi e corrugarsi. Sentì il sibilo del sangue di Meklin che bruciava. Il corpo dell'uomo stava lottando inconsciamente e gli occhi del colonnello erano rovesciati, ma Roland restò aggrappato al braccio ferito. Sentì l'odore di sangue e carne bruciata. Lo aspirò profondamente nei polmoni come un incenso purificatore dell'anima. E continuò a cauterizzare la ferita, premendo il fuoco sulla carne. Alla fine, Meklin smise di lottare. E dalla sua bocca uscì un gemito lieve e angoscioso, come se uscisse dalla gola di un animale ferito. «Va bene!» gridò Warner. «È finita!» Roland era ipnotizzato dalla vista della carne che si fondeva. La manica strappata del giubbotto di Meklin aveva preso fuoco e il fumo vorticava sulle pareti del pozzo. «Basta così!» urlò Warner. Il ragazzo non si fermava. «Roland! Basta così! Danazione!» Questa volta la voce dell'uomo lo riportò alla realtà. Roland liberò il braccio del colonnello e vide che il moncherino era bruciato fino a diventare nero e lucido, come se fosse rivestito di pece. Le fiamme sulla manica di Meklin si stavano estinguendo da sole. «È finita!» si rese conto Roland. «Tutto finito!» Batte il pezzo di legno contro la parete del pozzo, finché non fu spento, e lo gettò. «Vado a cercare della corda con cui tirarvi fuori!» disse Warner. «Stai bene?» Roland non se la sentì di rispondere. La luce di Warner si allontanò e il ragazzo restò al buio. Poteva sentire il respiro rauco del colonnello e strisciò all'indietro sul cadavere che era incastrato tra di loro, fino a quando la sua schiena non fu contro la roccia. Poi raccolse le gambe e strinse a sé l'ascia sacra. Sul suo viso macchiato di sangue c'era un sorriso fisso, ma i suoi occhi erano cerchi di shock. Il colonnello gemette e farfugliò qualcosa che Roland non riuscì a capire. Poi lo disse di nuovo, con la voce piena di dolore. «Datti un contegno!» Una pausa. E poi di nuovo. «Datti un contegno! Datti un contegno, soldato!» La voce era delirante, diventava più forte e poi scendeva fino a un sussurro. «Darsi un contegno! Eh, signore! Ogni morso! Sì, signore! Sì, signore!» La voce del colonnello Macklin iniziò ad assomigliare a quella di un bambino che piangeva per essere stato picchiato. «Sì, signore! Per favore! Sì, signore! Sì, signore!» Terminò con un suono che era per metà un gemito e per metà un singhiozzo tremolante. Roland aveva ascoltato con attenzione. Quella non era stata la voce di un trionfante eroe di guerra. Era sembrato più un supplicante servile e il ragazzo si chiese cosa vivesse nella mente del re. «Un re non dovrebbe implorare», pensò, nemmeno nei suoi peggiori incubi. Era pericoloso per un re mostrare debolezza. Più tardi, Roland non sapeva dire quanto. Qualcosa gli diede dei colpetti sul ginocchio. Tastò nel buio e toccò un braccio. Macklin aveva ripreso coscienza. «Sono in debito con te», disse il colonnello, e adesso suonava di nuovo come il duro eroe di guerra. Roland non rispose, ma gli era venuto in mente che avrebbe avuto bisogno di protezione per sopravvivere. A qualsiasi cosa sarebbe arrivata. Suo padre e sua madre potevano essere morti, probabilmente lo erano, e i loro corpi erano persi per sempre. Avrebbe avuto bisogno di uno scudo dai pericoli futuri, non solo dentro Earth House, ma anche al di fuori, sempre che, disse a se stesso, avessero mai rivisto il mondo esterno. Ma aveva in programma di restare vicino a da quel momento in poi. Poteva essere l'unico modo per uscire vivo da quei sotterranei. E se non altro, voleva vivere per vedere cosa restava del mondo al di fuori di Earth House. Un giorno alla volta, pensò. E se fosse sopravvissuto al primo giorno, avrebbe potuto superare il secondo e il terzo. Era sempre stato un sopravvissuto. Era parte dell'essere un cavaliere del re. E adesso avrebbe fatto qualsiasi cosa fosse necessaria per restare vivo. La partita vecchia è finita, pensò. Quella nuova sta per iniziare. E avrebbe potuto essere la partita più grandiosa dei cavalieri del re che avesse mai giocato. Perché sarebbe stata reale. Roland cullò la scia sacra e attese che il gobbo con un occhio solo tornasse. E immaginò di sentire il rumore di dadi scossi in una coppa di osso sbiancato.